buongiorno amici buongiorno amiche oggi abbiamo in test questo box android vedete qui davanti ci sono le lucine ai lati non c'è niente dietro c'è lo slot per la micro sd che io ho già inserito e per la sim la dissipazione vedete è qui sopra ai lati e sotto non c'è niente in questo momento io sto riproducendo un video youtube vedete senza nessun problema a tutto schermo nel cruscotto dell'auto vedete che risulta collegato un iphone quando invece in realtà è collegato il mio samsung android ci sta però dicendo che il titolo del brano youtube in riproduzione e ai box che sarebbe appunto il nostro il nostro box prima di andare a smanettare sui menu vi dico le sue caratteristiche 3 gigabyte di ram 32 gigabyte di memoria interna però espandibile tramite una sd come avete visto io ho attualmente una sd processore snapdragon ha il gps integrato quindi non dovete usare il gps dello smartphone e quindi sul riscaldarlo o consumare la batteria ma il proprio gps e inoltre appunto c'è lo slot per la sim quindi potete dargli il segnale i dati con la sim sua proprietaria senza dover usare il tethering o senza dover utilizzare ad esempio una comunque una fonte esterna al box per i dati qui siamo appunto sempre in riproduzione youtube adesso usciamo un attimo guardate il widget è vero che ce l'hanno tutti questi box ma questo qui ha una funzione in più che mi è piaciuta che è questa qui vedete per pulire tutto le applicazioni aperte poi c'è questo per modificare il layout in tempo reale poi naturalmente c'è quello per uscire o andare vedete alla home naturalmente in background sta ancora riproducendo la musica di youtube io però adesso sono andato nel menu principale avete visto come è veloce qui c'è la riproduzione di youtube del dello smartphone anzi no scusate youtube suo questo qua è in riproduzione che quindi lo comandate anche dal dal widget questo qua allora diciamo che da qui potete telefonare se avete inserito la sim nel nel vostro nella vostra slot altrimenti altrimenti dovete utilizzare questa che utilizzerà invece la il vostro smartphone oppure dopo ci colleghiamo ad android auto qui e a quel punto potremmo chiamare attraverso android auto quindi qui chiamate con la sim se ne avete inserita una nel box qui chiamate con il bluetooth dello smartphone qui entrate in android auto e utilizzerete la funzione telefono di android auto come vedete ci sono parecchie app preinstallate queste qui le trovate tutte nel box io non ne ho installata nessuna sono anche un pochino troppe sinceramente però questi sono i satelliti vedete come vi dicevo lui ha un proprio gps e sta fixando tranquillamente i satelliti qui vedete torniamo al menu principale vi dicevo le app secondo me ne hanno messo un po' troppe perché questa io me la potevo installare da solo questa non so neanche cosa sia questa non ho l'abbonamento però la cosa più importante che ci sia il play store per installare le applicazioni che volete anche quelle che eventualmente avete pagato se siete un po più birichini avete delle apk di quelle curate utilizzate questo installate l'apk e vi troverete l'applicazione qua nel nel box allora 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 qui naturalmente è se avete in riproduzione sullo smartphone un brano o ad esempio youtube in background da qui la potete ascoltare sullo stereo della macchina andiamo un attimo ai settaggi del box vedete questa è la prima la prima menu semplificato del box con i settaggi vedete molto aggiornato vedete italia io ho settato la lingua italiana però vi dicevo che qui potete mettere lingua italiana io attualmente sono connesso alla sim presente nella mia automobile quindi sto utilizzando non una sim inserita nel box ma una che è presente nella mia automobile naturalmente sono collegato al bluetooth del mio smartphone se andiamo qui invece andiamo sul menu completo di android qui vedete il sistema occupa una decina di giga ne sono 21 liberi ma comunque troverete l'espansione con la sd qua altre opzioni vi volevo far vedere ecco qui ci dice che c'è android 11 un po vecchio ma su questi box è totalmente inutile avere android 12 o 13 e poi qua ci dovrebbe dire da qualche parte ecco 3 gigabyte di program e 32 gigabyte di memoria interna come vi dicevo processore snapdragon molto molto importante mai scontato perché molti di questi box hanno processori spazzatura in questo caso il processore invece è uno snapdragon torniamo al menu principale youtube ve l'ho già fatta vedere inutile che vi apro tutte le altre app perché vi dico che funzionano andiamo alla funzione che da da molti la più funziona anche l'assistente vocale previsioni meteo domani a roma domani a roma ci saranno 28 gradi e cielo nuvoloso ha detto ha detto che le previsioni le ha dette e ce l'ha anche fatte vedere qua sul display quindi è perfetto anche l'assistente vocale e lo potete richiamare anche da qui adesso andiamo alla funzione che un po tutti un po tutti vogliamo testare cioè android auto quindi clicchiamo qui andiamo su android auto a quel punto mi si spegnerà la wifi che è attualmente attaccata alla sim della macchina perché android auto utilizza sia il bluetooth che il wifi se invece voi a quel punto avete inserito qua una sim dati utilizzerete continuerà a perderà sì la connessione dati ma a quel punto utilizzerà la sim del del box allora per essere un po più chiari se non mettete qua una sim dati quando vi collegate ad android auto non potrete più utilizzare youtube e le altre applicazioni perché a quel punto la wifi è occupata da android auto e quindi non si potrà più collegare al non lo so o il tethering dello smartphone o una saponetta però a quel punto utilizzate android auto quindi siete online su android auto e fate tutto da android auto quando uscite da android auto a quel punto e solo a quel punto quando chillate android auto vi si ricollegherà qui alla wifi se invece qui mettete una sim dati non avete nessun problema sia che siete collegati ad android auto che non siete collegati ad android auto lui ha la sua fonte di dati qui e quindi potrete avere simultaneamente sia android auto che tutte le applicazioni qua non so se mi sono spiegato se non sono stato chiaro ditemelo nei nei commenti adesso andiamo su android auto e vediamo se funziona e che succede si sta collegando eccoci connessi ad android auto il gps del mio smartphone è spento quindi lui giustamente non vede la posizione mentre tutte le altre funzioni di android auto come spotify come le chiamate come l'assistente vocale funzionano perché lui sta utilizzando la connessione dello smartphone qui è rimasto ancora come un carplay e non ci sta mostrando che siamo collegati ad android auto vediamo se riproducendo spotify cambia qualcosa la canzone è partita qui mi dice il brano non mette la copertina però già qualcosa ci dice che brano è in riproduzione altri box qua non mi dicono neanche il brano in riproduzione tanto meno la copertina mi dicono solo che è collegato un iphone qui invece almeno ci ha detto il titolo della canzone di riproduzione qui chiaramente ci fa vedere le copertine e e tutto quanto adesso senza addentrarci nei nei meandri di android auto che spero che spero conosciate tutti andiamo alle alle conclusioni quali sono le conclusioni che questo è uno dei migliori box android che io abbia provato nel 2023 perché è veloce perché ha il gps integrato ha lo slot per la sim costa sì oltre 100 euro ma io ho visto altri box costare oltre 100 euro e non avere il gps integrato e non avere la sim questo abbiamo visto che invece ha queste funzioni e soprattutto vi ripeto ho apprezzato questi funzioni rapide molto molto ben fatte ho apprezzato delle chicche quindi il software mi piace lo preferisco ad altri che ho che ho provato questo brand come potrete vedere sul sito che io vi metterò in descrizione produce veramente dei buoni dei buoni prodotti non lo dico perché mi hanno mandato il box sapete che a me non me ne frega niente io se il box non mi fosse piaciuto ve lo direi invece mi è piaciuto quindi fatevi un giro anche nel loro sito perché oltre a questo box che vi consiglio assolutamente ci hanno tanti altri prodotti e se tanto mi da tanto saranno buoni come come questo qua quindi ve lo metto in descrizione il link per l'acquisto ve lo consiglio e direi che ci possiamo salutare e ci vediamo magari per un prossimo video ciao